Salve a tutti e bentornati su Just Tratata oggi andiamo ad aprire un bel box di evoluzioni etere questo evoluzioni etere in cui siamo partiti con le lettere in airbox molto male per i miei standard è una busta che in realtà mi ispira un sacco quindi adesso andiamo a vedere mettiamo come al solito questo qua dietro mettiamo le bustine da una parte ok let's go allora questa busta in teoria è spalata scopriamo se lo è anche nella pratica le comuni poi abbiamo questo Zvaillus non ho mai saputo pronunciare reverse con dietro il gigalitraro che ho trovato anche prima molto bene un secondo che sistemo il tavolo come al solito allora oh questa l'ho aperta malissimo abbiamo Punkinboo e l'illigant raro direi che questa me la sono meritata come busta brutta quando apri male ti meriti anche di trovare niente dentro ok busta numero 3 non so come sia il ratio non ho visto le opening degli altri ancora allora 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 abbiamo il trolley di salvataggio reverse con dietro florges holo che è la holo che ho trovato anche prima oserei dire quindi vediamo porterà fortuna porterà sfortuna immagino lo scopriremo solo vivendo busta numero 4 allora queste 36 buste sarà meglio che vadano bene sarà meglio che vadano tutte scrafty reverse con dietro uno smirgol normalmente raro sarà meglio che vadano bene insomma stavo dicendo e non che trovo tutti questi queste rarine brutte non ho effettivamente non mi sono ancora studiato l'espansione cioè quindi non so se a livello torneistico a livello di gameplay ci siano carte forti nel senso non so quali carte saranno parte del meta quindi lo andremo a scoprire poi più avanti so che fluffy sarà giocatissima però è una holo se ricordo bene bagon che è figo pumpkin goo tentacle abbiamo maidotic in versione reverse con dietro abbiamo la grinta dell'iris full art abbiamo già un bel supporter full art che vado a imboostare immediatamente 203 su 203 eccola lì comunque questo ursaring è bellissimo questo ursaring è bellissimo direi che siamo partiti bene ok datemi un secondo ok non ero stato lungimirante per quanto riguarda le buste non sapevo dove buttarle ma il mio bidone era completamente pieno l'ho dovuto vuotare ma adesso posso andare avanti andiamo avanti da questo rafflet da queste comuni 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 c'è Teddiursa c'è l'uvdisc reverse con dietro abbiamo questo Neuvern V che però è l'unica V che abbiamo trovato anche nel anche nell'elite trainer box l'ho trovato sempre Neuvern full art ma sempre Neuvern onestamente spero sia forte non l'ho ancora letto poi andiamo avanti che busta siamo? 3 3,6 questa è la 7 busta numero 7 busta numero 7 abbiamo un po' di comuni con dietro oppip reverse e dietro uh che bello che bello questo Jumpluff Jumpluff Hollow poi andiamo avanti oserei dire busta numero 8 per adesso sto andando veramente troppo bene quindi sarà meglio che questa roba continui comuni tolte brevi reverse con dietro Altario Altario è sempre storicamente stato giocato come carta supporto nei mazzi Drago e onestamente spero che si vada avanti così spero che anche questa Altaria sia forte ma di nuovo non ho letto cosa fa allora vediamo qui abbiamo comuni fino a Deino reverse con dietro il Milotic di prima ma questa volta normale poi io sto andando veloce sulle comuni perché appunto su 36 buste non credo vi interessino ecco detto questo voi volete vedermi sbustare evoluzioni di Eevee in realtà anche io vorrei vedermi sbustare evoluzioni di Eevee non credete allora abbiamo Apple to reverse con dietro Hydreigon in versione holo le holo di questa busta mi piacciono davvero tanto mi dispiace un sacco che le holo nel corso degli anni abbiano perso così tanto valore a livello in generale perché a livello proprio collezionistico sono carte brutte a livello appunto di gameplay non ne hanno nel senso è davvero raro che ci siano mazzi basati su una holo in particolare IceQ reverse con dietro rampa raro e onestamente mi dispiace perché se pensate ai primi set o comunque alla roba che la gente colleziona le carte costruite sono tutte holo random cioè normalissime holo mentre ora se non sono mille volte full art non sono carte tutte bianche cose del genere non c'è interesse e onestamente mi dispiace Eevee Litteleo robe 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 abbiamo Flapple reverse con dietro Talon Pay non l'avevo ancora visto e il disegno mi ha un attimo stranito non so perché non ho riconosciuto Talonflame immediatamente poi tra l'altro io sono al contrario rispetto alla direzione delle carte quindi voi le carte le vedete dritte io le vedo storte vedo un uccello che non mi sembra Talonflame la scritta ci metto un attimino a leggerla e quindi Talonflame tolte le comuni time pull reverse con dietro Ampharos Ampharos figatissimo perché sarà probabilmente l'Ampharos meno cagato della storia visto che il fluffy che c'è in questa busta avrà una rilevanza importante a livello di gameplay e nessuno lo farà mai evolvere in questo Ampharos detto questo anche qui andiamo a togliere le comuni fino alla dream ball reverse con dietro attenzione Umbreon nella versione più regolar possibile ma cavoli se è bello metti a poco per favore ecco è bello in busto e si va avanti siamo quasi alla fine della prima colonna di buste che attenzione sono 36 quindi una colonna sono 18 buste in teoria poi ci sono delle volte che nei box si mischiano a caso e una colonna ha una busta in più l'altra non in meno ma siamo lì patilil patilil reverse con dietro victini holo ma che belle sono le holo in sta busta c'è la fuilatura è quella della busta precedente però hanno una qualcosa queste holo un qualcosa che mamma mia mamma mia poi abbiamo lillipup comuni che vado a togliere in modo ignorante con gigalit reverse non riesco a far vedere le reverse e con dietro charpedo raro poi si va avanti ultime due buste della colonna quindi in teoria questa dovrebbe essere la 17 non sto riuscendo ad aprirla quindi è sicuramente la 17 non sto riuscendo ad aprirla quindi è sicuramente la 17 abbiamo no fermi ho tolto la reverse questa è stata un fail energia tesoro reverse e flap wall raro poi ultima busta ultima questa non si sta aprendo per niente mamma mia questa busta è maledetta devo riuscire ad aprirla senza rovinare il contenuto forbici a me scusate il momento ma questa busta è rimasta attaccata male spero non si sia rovinato il contenuto perchè in pokemon non succede ma in yugioh succede continuamente è uno dei motivi per cui alcune espansioni nuove di yugioh le schippo molte in realtà perchè non sanno fare il packaging yugioh rovina un sacco di carte all'interno delle buste per via del packaging scarso pikachu cutie fly abbiamo la profumina reverse con dietro tutto sto casino per uno shift 3 raro eeeh le uncommon nel codice parte la seconda colonna colonna numero 2 è il momento di trovare una super secret full art di marx ma mi accontenterò di nikit non è vero con dietro gaurgist normalmente raro però però si va avanti abbiamo così tante buste davanti abbiamo così tante buste davanti allora no ho sbagliato tutto vabbè insomma ursaring reverse con dietro questo wishy washy raro che non è ancora visto tra l'altro credo sia la prima volta che esce andiamo andiamo questo ivy è meraviglioso si toglie si toglie si toglie lo shift 3 di prima ma in versione reverse con dietro wow full art un full art tra virgolette di serie b perchè è lì can rock ma pur sempre un full art quindi si va si va per adesso stiamo andando molto bene in questo box onestamente vorrei andare meglio meglio di così perchè i box i box devono essere quella cosa devono essere quella cosa che ti fa dire ehi ho un po' di carte quindi ho visto una roba ho aperto male signori 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 è questo forse il box della vita è questo forse il box della vita anche il gatto sta dicendo questa cosa dietro abbiamo sylveon v max hyper secret o come volete chiamarlo che bello è da prendere l'uploader da prendere l'uploader bene insomma stiamo andando bene ma io voglio andare ancora meglio per ora abbiamo trovato due v una v full art e la v max in versione high per oltre tra l'altro alla supporter full art ma io voglio andare ancora meglio di così io voglio andare ancora meglio di così abbiamo tropius io voglio andare ancora meglio di così detto questo detto questo si va avanti allora in questa busta io voglio ogni cosa andiamo abbiamo il rotolo rapido reverso con dietro un seismetod normalissimo ma lo posso accettare lo posso assolutamente accettare lo posso assolutamente accettare ho delle carte un attimo da sistemare sul tavolo ok queste erano quelle della busta di sylveon erano rimaste in mezzo allora vado avanti questa busta è questa busta è obesa non facciamo body shaming ma questa busta è veramente obesa allora abbiamo vigor traverse con dietro un normalissimo stoutland motivo per cui si dice che noi giocatori di pokemon non capiamo un cazzo quando si tratta di di capire se una busta è obesa o no oppure si può dire anche che non capiamo un cazzo in generale eh per carità non non sindaco su questa cosa ma tornando a noi busta comuni comune pikachu comune seibolai reverse con dietro lo shift 3 di prima quello maledetto non so perchè maledetto quello shift 3 perchè sto definendo maledetto un povero shift 3 boh shift 3 mi dispiace ora sei diventato maledetto ok non stavo capendo cosa stavo facendo abbiamo la busta uguale a prima con no prima era gigalit boldor in versione reverse con dietro il patacchino wishy washy mancano poche buste alla fine ma siccome il rumore che fanno le buste appiccicate quando le muovi mi da fastidissimo alle orecchie non le muoverò per contarle ma le toglierò ancora una alla volta sono una di quelle persone lì che ha dei problemi gravi allora tolta le comuni tolta una comune cavoli quanto è bello questo articuno reverse con dietro goregeist ma io lo so che troveremo l'umbrion in versione v max con l'art alternativo super figo eccetera eccetera perché so che questo sarà il box della vita so che questo sarà il box della vita e che inizierà da qui in realtà inizierà da sylveon abbiamo di alga reverse con dietro drampa raro il drampa di comiglia comincio a trovarlo fin troppo spesso poche buste alla fine io ne conto due due quattro sei questa è la settima quindi sette buste alla fine sette buste alla fine apple in reverse con dietro wow abbiamo così un ottimo sylveon eh sylveon l'ho messo un pissato abbiamo l'ifeon che belle evoluzioni di vi trovate così abbiamo trovato l'ifeon nice molto nice e si va si va 6 to go 6 6 to go oh qui ho spoilerato di nuovo io non so far fare questa roba qui c'è reggi drago in versione holo ma tornando a noi tornando a noi amici cinque buste alla fine cinque buste alla fine per adesso il pull non è per niente male ma onestamente lo vogliamo alzare ancora vogliamo trovare qualcosa di enorme in questa busta vogliamo trovare qualcosa di oh reggi drago reverse con dietro di nuovo wish washi raro mannaggia a me che prima ho detto che non lo stavo trovando mai qui 3 4 buste alla fine io onestamente vorrei aumentarlo almeno con un'altra evoluzione divi poi oh se per caso esce una full art non è che mi offendo eh non è che non è che uno si offende non è che abbiamo la chiappa pokemon giocattolo con dietro un pincer non so perchè mi fa così ridere il fatto di trovare un pincer allora queste vanno qui ormai ho perso anche dove dove appoggiare le carte 3 alla fine 3 alla fine confirmed confirmed 3 alla fine confirmed abbiamo roba roba con un'altra roba amphorus reverse con dietro e ce l'abbiamo non è un'alternativa super figa eccetera eccetera ma abbiamo garbodor v max full art che bello ma che bello è che meraviglia 2 buste alla fine 2 buste alla fine per adesso per adesso il box merita ma di nuovo vogliamo farlo diventare il box della vita vogliamo farlo diventare il miglior box di evolving skies possible c'è un ludicolo perchè io non so fare di nuovo e tiro sulle carte in modo sbagliato c'è un ludicolo holo ma noi con l'ultima busta la busta che può confermare o ribaltare il risultato cosa troveremo qui cosa troveremo in questa busta scopriamolo e questa busta la aprirò in modo solenne oserei dire l'ultima volta che ho detto una cosa del genere mi è caduta fortuna che non c'era niente l'ultima volta l'ultima parte l'ultima parte cutie fly eevee litleo laburno reverse con dietro un bellissimo e normalissimo appletoon raro e per la prima volta vedrete skiplum vedrete le montagne tempestose vedrete la dream ball e non vedrete il codice signori questo box è finito il pool è stato molto nice a livello di holo di holo normale ne abbiamo trovate 6 mentre per quanto riguarda le v abbiamo avuto 3 v normali una v full art una v max e queste due qua la supporter full art e la v max hyper ragazzi ricordate di mettere un like a questo video se vi è piaciuto e mi raccomando scrivetevi cosa avete trovato in questa busta nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale che arrivano anche i video di rattata che sono un attimino in pausa in questo momento perchè è estate perchè sto lavorando come non so cosa perchè escono roba in continuazione insomma il video sulla quarta gen arriva a settembre ragazzi ricordate se siete qui soltanto per gli unboxing e dare un'occhiata la messiera regolare è già strattata e che tutte le carte in vendita cioè tutte le carte prese nei video sono in vendita sul negozio ebay R cards presento in descrizione alla prossima